Lions Dance è pronta ad approdare a Rimini al campionato nazionale di ballo. Con quante coppie vi presenterete? Siete pronti? Diciamo che siamo pronti. Presenteremo sette coppie agli italiani, coppie che ballano da un bel po' di tempo. Tra l'altro c'è anche il maestro della Lions Dance, oltre a me, il fratello Mirko, che parteciperà al campionato italiano. È una gara abbastanza difficile, dove ci saranno moltissime coppie. In una categoria, la 1934-2, sono 163 coppie. È quindi un po' dura come gara, però penso e spero che andrà bene. Sarà sicuramente un'esperienza formativa per i vostri allievi? Sì, sì, perché già siamo reduci di campionati, campionati provinciali, regionali, diciamo che già sono abituati a queste gare, a queste competizioni. Già questo qua è il settimo anno che andiamo consecutivo, quindi già siamo esperienti nel campo. Da sollevamento pesi alla danza, qui insomma avete un presidio che è sempre aperto a tutti i giovani. Un punto di riferimento anche del quartiere? Sì, sì, parliamo qua Sette Farine, siamo aprendo questa palestra nuova, che facciamo danza, sollevamento pesi e karate abbiamo quest'anno. Quindi insomma tre discipline per impegnare in maniera positiva il tempo di tutti i giovani del quartiere, non solo. Sì, sì, effettivamente. Possono venire da tutte le parti, non è un problema, noi li ospitiamo tutti tranquillamente. A quando un campionato di ballo nazionale a Gela? È da vedere questo, è un po' difficile ma da vedere. Se l'amministrazione comunale concede, noi lo facciamo. Grazie.